fare il produttore invece è diciamo prendere in carico tutto il lavoro cioè da io poi sono anche autore dei miei pezzi quindi io scrivo la canzone ma dico con un autore no faccio proprio le session autorali poi da lì capisci chi può andare bene per il pezzo lo si fa provinare si segue la regiazione delle voci si segue il mix cioè proprio dall'inizio fino al confezionamento finale allora considerando che in totale sincerità una buona percentuale di culo se si può dire ma sempre comodo però non è solo quello ovviamente allora io semplicemente grazie a tutti